Caminsuv, DR3, DR4, DR5, DR6, DR la sfida Le concessionari DR ti aspettano per un test drive Amici bentornati all'autostandard, benvenuti dall'autostandard Benvenuto da me e da Cooper Perché Cooper? Perché questa DR è la vettura che piace a Cooper E a tutti gli amici di Cooper e a tutti i vostri cani Gatti, criceti, pappagalli Volete capire perché? Volete sapere perché la DR piace a Cooper e a tutti i nostri amici cani? Seguimi Enrico, seguimi con la camera Bene cari amici, argomenti, argomenti ne abbiamo tanti Uno degli argomenti è questo La nuova DR4, bellissima, splendida Che ha il GPL dei serie, che ha il tetto apribile, gli interni in pelle, i climatizzatori, i posti posteriori Ed è compatta, ed è una vettura direziosa E costa 18.000 euro Con il GPL della casa, 18.000 euro con il GPL della casa Se voi ci state vedendo dal Piemonte e dalla Liguria Insomma, nelle nostre vicinanze Sappiate che ci sono 5 anni di esenzione del bollo 5 anni di esenzione del bollo Questa autovettura è costruita molto bene E ora vi faccio vedere anche perché piacerà ai vostri amici animali E il motivo per il quale la DR4 piace molto a Cooper e a tutti i suoi amici animali È perché la DR4 ha il climatizzatore nei posti posteriori E poi perché la DR4 ha tanto spazio per i nostri amici animali Siano essi Cooper, siano essi gli amici di Cooper, i cugini di Cooper e i parenti di Cooper Vediamo anche adesso la DR6 E vogliamo parlare della nuova DR6 Ma parliamone deliziosa, gradevole, proprio bella, graziosa La nuova DR6 1500 turbo con il GPL Anche questa 5 anni di esenzione del bollo Anche questa, come tutte le DR, costruite con cura, attenzione e amore A disegna nel Molise E anche questa equipaggiata di tutto punto Il tetto apribile, il climatizzatore, la telecamera di elettromarcia Il sensore di parcheggio, eccetera, eccetera, eccetera Venite a provarla, noi non vi diciamo venitela a comprare Venitela a provare Siamo aperti tutti i giorni Da lunedì alla domenica Siamo in corso T-S96 a Moncalieri Venitela a provare Abbiamo ancora una chicca da farvi vedere Seguimi Enrico E anche sulla DR6 i nostri amici animali staranno benissimo Cooper, Cooper è felice, è soddisfatto Sorridi alla camera Cooper Capiamo perché stiamo bene sulla DR6 io Cooper Perché ha gli interni in pelle Perché ha un bagagliaio meraviglioso E ora con un bel saltino Cooper scende Ciao Andiamo a vedere il resto della gamma della DR Vogliamo parlare della nuova DR3? Ecco, questa è la nuova DR3 Bellina, ma proprio bellina Graziosa, gradevole Le prime 10 che mi ha venduto Le comprate 10 signore, ragazze, signorine Insomma, questa è per l'utenza femminile La trovo deliziosa Venitela a vedere Venitela a provare E questa DR3 Nuova, appena sfornata dalla DR Equipaggiate di tutto punto Anche questa con il GPL Costa, scriviamolo Enrico Mettilo in sovrimpressione 16.000 euro 16.000 euro 16.000 Chiavi in mano Su strada Con i cerchi in lega Con il tetto apribile Con la telecamera di elettromarce E sensori di parcheggio Ma perché non venite all'autostandard? Perché non venite a provarla? In corso Trieste 96 a Moncalieri Vi vedremo con molto piacere Ne varrà la pena Quindi la nuova DR3 Ora, oltre alla DR3 E oltre alla gamma DR In autostandard C'è tanto C'è tantissimo Passo la linea Al mio collega Francesco Perché ha delle vetture strepitose Da farvi vedere Delle vere occasioni Chilometri zero Auto aziendali Sino al 40% di sconto Ma dopo Vi voglio vedere ancora Per 5 minuti A fra poco La linea a te Francesco Grazie Marcello Che mi passa la linea Vorrei cominciare con questo piccolo usato Una mini 1.6 16 valvole Parliamo di una vettura benzina La richiesta su questa vettura 2.500 euro Signore, veramente Chi vuole spendere poco e viaggiare Per passare una bellissima Volkswagen Una Polo Una 1000 di cilindrata Una Trendline Signore, del 2016 Una vettura che ha percorso 30.000 km A 9.500 euro E qui siamo su una bellissima Mito Una Mito 1.6 GTD M2 Come potete vedere Di colore giallo Signore, una vettura immatricolata Nel 2013 Una vettura che ha percorso 44.000 km La richiesta su questa vettura 8.450 euro E qui, bellissimo Ma è venduto Un Tiguan E andiamo su una Subaru Un Subaru Forester Un 4 ruote motrici Signore, una vettura Del 2016 Che prezziamo a 14.200 euro E anche qui Su questa bellissima Subaru XV Come potete vedere Vettura super accessoriata Da navigatore Tetto apribile Chi più ne ha ne mette Una vettura che ha percorso 44.000 km Signore, la richiesta su questa vettura È 16.700 euro Garanzia Subaru Auto Standard E passiamo su questa bellissima Cadillac Un CTS 3006 V6 Automatica Navigatore Tetto apribile Signore, cambio automatico Vettura Benzina GPL Dalla casa madre La richiesta su questa vettura È 22.500 euro Solo all'auto standard In corso Trieste 96 A Moncalieri Allora siamo qui Allora siamo qui su una Toyota Verso 1.6 diesel 4DD Style Come potete vedere Del 2015 Di colore grigio Scunometallizzato Una vettura che ha percorso 70.000 km La richiesta su questa vettura 13.900 euro Ripeto signori Immatricolata nel 2015 Vettura pari al nuovo E siamo su un Fremont Come potete vedere Un 2.000 Multijet 170 CV Urban Ricordo che questa vettura È 7 posti Perciò potete portare A spasso anche i suoceri La richiesta su questa vettura È 13.950 Una vettura immatricolata Nel 2014 Signori Vettura Con veramente Non perfetta Di più E siamo su un Nissan Cascai 1.5 DCI PDF Il modello Tech Anche questo di colore nero Cerchi in lega Full Full option Veramente anche questa vettura A posto al 110% Con garanzia auto standard Ripeto Garanzia 12 mesi Qualsiasi cosa si spaccasse Noi siamo qua L'officina all'interno Della concessionaria Anche se fosse all'estero La richiesta su questa vettura 10.900 euro Una vettura immatricolata Nel 2013 Vettura veramente Nelle condizioni Perfette E dove possiamo trovare Un Renault Captur 1.5 DCI 8 valvole 90 cavalli Con start e stop Navigatore Che più ne ha ne mette Una vettura che ha percorso 24.000 km Immatricolata Marzo 2017 Ancora in garanzia Dalla casa madre A 13.900 euro Solo all'auto standard Vettura full Full È garantita al 110% Sia da noi Che dalla casa madre E anche questo piccolo SUV Una Hyundai IX 35007 CRD Due ruote motrici Modello Classic Una vettura che ha percorso 60.000 km Unico proprietario Signori Del 2013 A 12.990 euro Signori Sempre vetture con garanzia Estensione Questa vettura Ha 7 anni di garanzia Perciò parliamo Che fino al 2020 Ce la dà la casa madre E stiamo su questa vettura È una C3 Il modello più bello Questa è una vettura benzina Un 82 cavalli Benzina Signori Il prezzo di listino Di questa vettura È di 18.700 euro All'auto standard La portate via A 13.900 Più voltura Per passare a una tipo Come possiamo vedere Una tipo Station Vego Anche questa È un Euro 6 Parliamo di Euro 6 Perché siamo alle porte Il primo ottobre Poi ci dicono Che ci fanno girare Invece un 1.600 Station Vego Lounge Modello più bello Con cerchi In lega Bluetooth Veramente vettura Super accessoriata La richiesta su questa vettura Kilometro zero Del 2017 A 17.900 euro E prima di passare La linea a Marcello Vorrei chiudere La trasmissione Con questa Mito Un 1.6 120 cavalli Multijet Signori Veramente Vettura a posto Come potete vedere A 6.900 euro Solo in auto standard Vi aspetto numerosissimi Grazie a voi Vi aspetto veramente in tanti Siamo alla fiera di Nichelino A partire dalla prossima settimana Signori Vi aspetto Anche in fiera Un saluto a tutti E ripasso la linea a Marcello Ciao Grazie cari amici Grazie per la vostra attenzione Vi devo ricordare Dove siamo? Corso Trieste 96 A Moncalieri Vi devo ricordare Quando ci siamo Ci siamo tutti i giorni Quindi vi vedremo volentieri Oltre a DR e Subaru Queste splendide vetture Che avete visto Abbiamo ancora A tanto altro Grazie di nuovo Perché ci avete seguito Da Marcello Sane Dall'Auto Standard Ciao A presto Coming Sub DR3 DR4 DR5 DR6 DR La sfida Le concessionari DR Ti aspettano per un test drive